Mi ha perso qualcuno oggi. E dov'è Herschel? Lo vado a cercare. Non riusciamo a trovarlo. Vogliamo parlarne un momento prima di decidere di andarti? Ci servirà Herschel quando nascerà il bambino. E cosa succede adesso? Tu e il tuo gruppo siete come la peste! Distroggete tutto! C'è costretti a setacciare quei boschi in cerca di una ragazzina che sapevamo tutti che era già morta! Non posso biasimarti per aver avuto una speranza. Speranza? Non c'è speranza per nessuno di noi. The Walking Dead. I nuovi episodi. Da questo lunedì alle 22.45 su Fox.